Il numero 16 è Clelia Peppe, con il numero 17 è Lucila Stetler, con il numero 19 è Miriam Apuzzo, con il numero 23 è Cecilia. Ecco, esce fuori dalla posizione pivot, Manolovic mette giù la sfera, il passaggio libera, Notarianni di sinistro, commette sfondo, palla persa, corre il Pontinia subito ma non riesce a ganciare le giocate di Manolovic a Teba, valgono l'uno pari, secondo minuto del gioco, Notarianni è in cui da sola, la parata. Bella parata in cui si fa parare il tiro, rimane fermo il portiere, si sposta al momento giusto, devia, palla fuori, palla di nuovo, riparte veloce il Pontinia. Sopra la traversa, la conclusione di Gomez di Forza. Attacca subito l'Erice, attacca con la Notarianni, spacca la difesa, bella palla per la... grande parata, chiude benissimo sulla Manolovic che ha tu per tu, grande parata del portiere del Pontinia, rimane fermo. Bella palla, rubata, corre, corre Erice, palla sola, sola la Losio, via la... è la parata di Mahadem. Sbaglia Tarbuka, tu per tu col portiere, non riesce a metterla dentro, rimane ferma, immobile, rimane immobile, aveva tutto il tempo. Stava fischiando l'arbitro al contrario, corre Leco, corre Leco, corre adesso Manolovic, da sola la Losio e si fa parare la seconda volta la Losio. Il tiro poteva attendere, poteva piazzarla meglio. Precisissima, Mahadem. Incredibile. Vantaggio di Erice, soffata. Corre Leco, corre il contropiede della Leco, vola da sola, si fa parare Leco. Grande parata di Mahadem, grandissima, palla a mano in questo avvio di gioco. Troppi errori di Erice. Molto elevati, troppa, era entrata nel frattempo Ramazzotti al posto di Massonno che dolorante in panchina. In attacco, errore per il quindicesimo minuto del gioco. Notari anni, serve Manolovic. Il ribaltamento per l'ala e Losio e la parata ancora di Mahadem. Non va, la Losio, niente da fare per la Losio, non va, quindi si già si sta muovendo sulla panchina la Pugliara. Erice adesso deve rientrare in partita, ma più che altro deve essere molto più attenta nelle fasi conclusive, come questa. Tutti i palloni a tu per tu col portiere, non si riesce a segnare. La Pugliara diventa difficoltosa adesso per Erice metterla, la tiene ancora attaccata, deve però svegliarsi l'attacco dell'Erice. Il palo colpito da Manolovic. Nostra, nostra, sì, l'ha deviato il portiere, sì, giusta la palla. E poi Gorbaciova, Enku, Manolovic, ribaltamento per Reco, prova a velocizzare per Pugliara e la parata di Mahadem. Resta in attacco comunque Erice. Enku, sfera tra le sue mani, infrazione dei passi, palla persa per Erice, corre tra le sue mani. In frazione dei passi, palla persa per Erice, corre Coloredo a tu per tu. Non sbaglia la Coloredo, errore della Enku, è più tre. 9-12, ventisettesimo minuto del gioco. Attacco per Erice, Gorbaciova, Manolovic, il tiro e la parata di Mahadem. Gorbaciova, Manolovic ancora, il taglio e Pugliara, doppio pivot per Erice, Gorbaciova, il ribaltamento per Reco, la parata di Mahadem. Ferma tutto per Erice. Bella parata, bella parata del portiere in diagonale, adesso riattacca nuovamente Pontinia, la possibilità. Una gran partita, Teiba. Rete del 9-13, nuovamente più quattro per Pontinia, ultimi due minuti della prima frazione, la parata di Mahadem su Eco, prova a recuperare Inku, ci riesce, ma c'è il fischio arbitrale, invasione d'aria. Palla persa per Erice. Vita ancora Manolovic, prova a andare a sola, apre per Pugliara, si chiude bene in difesa del Pontinia. Poco movimento e la parata sulla linea di Mahadem che salta tutto. Bella parata, grande parata del portiere oggi, grande veramente il portiere del Pontinia, veramente grande. Sta facendo, già aveva fatto del girare Erice, deve andare Erice, palla tirata malamente dalla Gorbaciova. Ma il brutto con contropiede, due minuti per la Manolovic che spinge la Colaredo. Fondamentale questo recupero, velocizza Eco, Enku. Va da sola Enku, colpisce il palo, ma c'è il fallo. Velocizzare la parata di Ramazzotti. Corre Erice, con Manolovic. Ecco il tiro, la parata di Mahadem. Ha un'autostrada. Ha un'autostrada, dici bene, la difesa guarda, niente da fare. Allarga Erice, la parata di Mahadem su Pugliara. Resta comunque l'attacco Erice. Grande parata, Pugliara sbaglia nuovamente, le ali proprio oggi molto male, molto male. Manolovic, ecco ribaltamento per Bazzolu. Ecco il tiro in controtempo, parato a mancare, ma è palla recuperata per Pontinia. Pontinia che può adesso con la massima tranquillità, deve gestire. Prova a recuperare palla, Erice è così. Velocizza Erice, Tarbuk, serve Manolovic, il tiro, la parata di Mahadem. Sette metri, sette metri e due minuti di nuovo. Si fa sentire il pubblico e palla a Cardella. Manolovic, va da sola, viene servita a Notariani. Palla per Tarbuk! E ci sono... E' un fisco capitale, palla recuperata per Erice che corre con Manolovic. Manolovic, il ribaltamento per Lossio, è da sola, la parata di Mahadem. Di nuovo Lossio sbaglia un tiro che non sono questi errori da parte sua, non li può fare. Deve metterla dentro questa palla. Prova a velocizzare Gorbaciov, il ribaltamento per Lossio. Chiude bene in aiuto e recupero il Pontinia. Lossio, il tiro, la parata, bloccata! Uno, la prima gara Erice era sempre in vantaggio e Pontinia riusciva a recuperare. Intanto, il palo esterno è qui. E' finita proprio niente. Firo lento, finisce così e la vittoria del Pontinia che spugna il pala Cardella. Vittoria per 26 a 28, sconfitta per Erice. Tutto da rifare, gara 3, si rigioca nuovamente qui al Pala Cardella fra 48 ore, martedì alle ore 18. Da Federico Tarantino è veramente tutto. A risentire.